è tornato alla ribalta purtroppo su social e sulla rete un gruppo di delinquenti che spacciano prodotti a mio nome si sono impadroniti della mia immagine si sono impadroniti dalla mia voce attraverso l'intelligenza artificiale e quindi vi propongono prodotti per il diabete vi propongono prodotti per il cuore vi propongono prodotti per dimagrire vi propongono creme per le articolazioni con i nomi più disparati dal cardio al cardione altre cose sono tutte false nessuno ha mai il sottoscritto non ha mai proposto prodotti di questo tipo quindi fate attenzione perché sono dei delinquenti purtroppo è molto difficile fermarli ci abbiamo provato con denuncia alla procura della repubblica un denuncio alla polizia postale le denunce su striscia la notizia ma i siti di queste persone stanno in paesi che non che non si fanno controllare stanno in bulgaria stanno in ucraina stanno in russia stanno in cina e quindi è molto difficile fermarli l'unico modo che abbiamo per fermarli e di non comprare questi prodotti che sono falsi vi arrivano a casa dei prodotti che non hanno non sono stati studiati dei prodotti che vi faranno anche male alla salute quindi mi raccomando diffondete il più possibile questo video e lo dico per voi per la vostra salute sono dei delinquenti che hanno l'unico scopo che è quello di fregarvi